Assessore Cicciola, dalla presentazione all'evento, gli stand sono stati allestiti, la città di Termoli per tre giorni al centro delle politiche che promuovono la mobilità sostenibile. Sì, questi stand sono stati allestiti, a me fa molto piacere, abbiamo lo stand della Rieco, abbiamo i nostri vigili urbani per la sicurezza, questo è un evento veramente straordinario. Io ho già ringraziato i vertici di Ecomob per aver scelto la nostra piazza dopo quella importante di Pescara, quindi ospiteremo questo evento per tre giorni, si parlerà di ecosostenibilità, si parlerà di turismo attivo, si parlerà di città più green e non poteva esserci piazza più adeguata per questo argomento, per questo tema, all'amministrazione è molto molto caro, soprattutto a me. Come è stato ribadito già più volte, la sostenibilità è uno dei quattro pilastri del mandato che è stato avviato nello scorso giugno, come si tradurrà in pratica? Allora, noi, devo dire, io ci sto lavorando molto, sapete, lo ripeto, ma non per giustificarmi, ma solo per farvi rendere l'idea, ho la delega da pochissimo tempo, ci sto lavorando con una squadra di impiegati che sono addetti al verde, stiamo buttando giù un bel programma e quindi prossimamente lo presenteremo alla stampa. L'integrazione con i veicoli green rispetto alle politiche che possono essere magari di incentivo? Ma è un nostro obiettivo ed è una nostra priorità. La città ne ha bisogno anche per dare quel senso di marcia in più per la città, quindi faremo sicuramente questo salto di qualità. Grazie. 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 Grazie.